Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video gaming ASMR continuiamo con la nostra avventura su Crash Bandicoot dobbiamo fare l'ultimo livello, il boss gli altri livelli vergognosi che ho fatto l'altra volta non voglia minimamente di rifarli, però dovrei e non ciò da un po' quindi spero di non fare più schifo del solito per il resto io vi ricordo di iscrivervi al mio canale di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e se volete sostenere me e il canale vi lascio il link giù in descrizione direi di iniziare subito col boss speriamo bene quindi mi devo concentrare perchè sennò farò uno schifo sicuro e anche concentrandomi sono una lingua sicurissima di andare bene vediamo un po' quanto difficile sarà questo boss ok la mia prestigio sta esplodando no no, non dovevo alzarmi che non voglia no, non no 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 Ok, vediamo un po' se ci arrivo C'è una maschera di merda da usare No Ok Diamo un po' Ed ecco che sboglio come al solito Oh madonna no L'avevo schivata quella Che palle Oh dai che non l'ho peccato Com'è possibile Va velocissima sta merda Perché ha fatto la scivolata Lo sa solo lei Ok Ok Ma perché fai sta scivolata di merda Piccille Per cortesia eh Un po' Non c'è super meno tempo Per arrivare da su qui Ok Questa è difficile Questo è difficile No Questo è difficilino Perché ho fatto sta cosa Perché ho fatto sta cosa Non si sa perché ho fatto sta cosa Sta minchiata Cichinatemi E poi Ci faccio caccare Come faccio del barlotto In un attimo Dai Vai con calma Ok Ok Ma t'hanno fatto di quelle morti Mamma mia Inimmaginabili Guarda come ci arrivo Ok 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 Sto cadendo No 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 Cosa sto facendo Sto perdendo un sacco di tempo Che Che due coglioni No No Dai Mamma mia C'è poco tempo Madonna Sono imbecile Madonna 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 Vediamo quanto devo starci Su sto Boss Tre trent'anni Sì Sono mio papino Lì Sì ma Non vale Che me la faccia partire Da qua Mamma mia Oh l'ho fatto Via Levati dai coglioni Ma hai rotto già le borne Sì sì Ti odio Guarda Boss di merda Adesso È il mondo nuovo Sarà un'altra schifezza Se ho sbagliato C'è la maschera viola Che è orribile La maschera più brutta Esatto Questa è la mia distruzione Non è questo Forse quello brutto Quella maschera Io Sì 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 Somma Taip Chao Molivarlo Caricamenti più lunghi Del mondo Ciao no, madonna vediamo un po' come me la cavo e già, andiamo benissimo da quanto sono scema, ho solo due vite oh mio dio, oh mio dio me la vedo malissimo rischioso, molto ma ho poche vite, mi sa che se muoio un po' è ancora un po', me lo fa ricominciare da capo, mamma mia che noia levati le palle non ci sono scatole vero lassù non ci sono scatole che noia non ci sono scatole non ci sono scatole non ci sono scatole non ci sono scatole sondern ci sono scatole ok, non so come ho fatto ad evitarlo è levadita le palle la mi stucce per l'amor di dio no, con la corda no mamma mia ma che che sono andata giù ma mi piglia per il culo mi pigliano per il culo mamma mia se faccio cacare aiuto levatevi un attimo dovete ricominciare e prendere il nastro è che non conosco il livello deve essere veloce perché non hai saltato? quanto ti odio quanto ti odio c'è un stick orribile no, 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 no niente va a cacare ricomincia il livello ma vai a cacare quasi fa notte insomma dai sì, però con così poca vite è uno schifo è da piangere mi viene però mi ricordo se devo fare tutte le scatole c'è la gemma mi ricordo faccio tutte le scatole ma no, no devo riscire di arrivare lì senza morire per prendere quel nastro di merda di merda di merda di merda levati ma perchè? perchè sono stupida mamma mia c'ho un ritardo oh salta perchè non salti oddio non salta sta rimabita ma cazzo eh no ragazzi mi nervosisco gioca di bebe ma un bellissimo gioco mamma mia che cos'è non salta è salta oddio 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 no no mi devo star fermi qua per ore adesso già lo so già lo so sentite andate a cagare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e non va, e non va su, 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 e non va su. salta, 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 salta devi soldare ma non va si inceppa no, no perché sono andata giù perché sono andata giù ce l'ho fatta ora che stavo finendo io ero sopra sta cazzo di tenente di merda le fatevi dare la parola la parola so perché vado giù ha problemi perché vado giù le mamma mia allora Sì Niente, ho l'istinto di andare giù là E non so perché Ce la posso fare Ce la posso fare E non so perché No, e non l'ho vista, non l'ho vista, e non l'ho vista Quattro vite, mamma mia, che noia, se devo ricominciare Adesso mi devo ricordare che c'è con la scatola lì Vabbè, devo rifare cento volte Ti prego Abbiamo finito, ti prego Oddio sì, oddio sì, oddio sì, oddio sì Grazie a Dio Ma Mucci No, non gli andavo di metterlo Spero che non debba rifarlo in caso No, non lo so se devo Perché Non ti prego Ehm Ehm Vado prima di qua Madonna, madonna Ma vai a cagare Ma non ci sono quei, c'è qualche segreto da qualche parte? Spero che non mi passa Niente Dai però, gribio Sto tornare indietro lì qua Ma io ho paura E faccio così Ho molta paura Sto tornare indietro l'acqua così Non so dove devo andare Visto? Ho fatto bene a prenderci Perché Mamma mia Wow, mamma mia Quanto so stupida A parte che non c'è neanche il costo Aspettarlo E come faccio a tornare indietro? No, è difficile Torno indietro l'acqua Forse è più facile Eh beh, certo Sembra ovvio Ho sopporto tutte le vite Per farci da cagata Non so da che parte tornare Sì, ma se non arriva il coso Come faccio a vederlo? Pone la merda solo Pone la merda solo Tornare indietro l'acqua Tornare indietro l'acqua Oddio Mi stavo buttando Spavolta Oh, non fare scherzi Bruschi Sperdino non aver perso nulla Per fortuna c'è anche il bonus Così salva Perché se no guarda Madonna, chissà il bonus com'è La vedo difficilissima Madonna, se sono rincoglionita Come funziona qua? Non so se è da fare così Non so minimamente se è da fare così Comunque Andiamo avanti Credo di sì Ok Ok Dammi un po' di vite Madonna, che testezza Io spero di non aver perso nulla Ma Non lo so Non so sicura Levatevi Levatevi C'è un segretino Diciamo 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 nascosto Ok Per poi L'ho presa Quindi non devo più tornare lì Un po' così Ci ho levato dalle palle Per fortuna Le scatole Le stavo fin dimenticando Ok Allora mi salva nesca Devo andare per di là Cosa c'è per di qua? Prende in panico Ok C'è una delle scatoline Madonna che follia che ho appena fatto Ho una follia pazzesca Sto stronzo Ok C'è bisogno di andare là da qua Oddio ho paura Mi faccio sta cretina Oddio non ce l'ho fatta Mamma Poi alle parti che mi metti ansia Non è ancora finito su livello Oh mio dio No Madonna, che culo Non mancano scatole, oh mio dio, ma perché? Non so dove siano, boh, non lo so Dove erano, boh La mia idea 169, scusate Bene ragazzi Io finisco quel video Io spero che vi abbia divertito questo video Più che avrei fatto rilassare Perché faccio abbastanza ridere Quando faccio questi errori stupidi E nulla Io mi mando un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Notte a tutti ragazzi, ciao 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 Grazie per essere stati qui Grazie per aver guardato il video